Per quanto attiene il sistema gestionale del rifiuto noi abbiamo investito oltre 36 milioni per anticipare i dettami del piano di gestione dei rifiuti e realizzare oltre 200 impianti tra piattaforme ecologiche, c'è di raccolta e c'è di riuso che hanno sostenuto tutte le realtà comunali e intercomunali per raggiungere il risultato della raccolta differenziata che è arrivata al 62% quando nel 2014 veleggiava intorno al 46%. Sul tema del litio invece i nostri depuratori attendevano interventi da oltre 20 anni di natura strutturale e evidentemente questa mole di investimenti che abbiamo improntato proprio su questo tema ha codeterminato ad esempio l'aumento sensibile delle acque di balnazione, della qualità delle acque di balnazione. Questo non lo dice solo Arta e solo Regione Abruzzo ma lo dice anche Goletta Verde che è una spietata sentinella su queste tematiche per arrivare poi al tema del territorio e della gestione delle emergenze e dei danni che in passato spesso venivano lasciati nel cassetto del dimenticatoio. Oggi si parla spesso di andare fra la gente, di tornare sul territorio. Noi siamo stati a contatti con i nostri simili per tutto questo tempo impegnando buona parte della nostra giornata svolgendo sul territorio 320 assemblee pubbliche percorrendo 484 mila chilometri, qualcosa come 12 volte il giro del mondo. Credo che siano dati incontrovertibili che possano dimostrare come in effetti il nostro lavoro è stato improntato su criteri non da scrivania ma da gente che si impegna sul territorio.